Lei mi guarda ogni giorno. Mary Jane Watson. Oh mamma, se solo sapesse quello che provo per lei. Ma non potrà saperlo mai. Una volta feci una scelta, vivere una vita di responsabilità. Una vita di cui lei non potrà mai fare parte. Chi sono io? Io sono Spider-Man e ho una missione da compiere. E sono Peter Parker. Io anch'io ho una missione. Parker! Parker! No, 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 fermo! Parker! C'è in ritardo, bello. C'è sempre in ritardo, eh? Mi dispiace, signor Aziz. C'è stata... confusione. Confusione, ancora confusione. C'è sempre confusione con te. Forza, vieni. 21 minuti fa arriva ordinazione. Armata a Bartone Smith. 8 pizze extra large a bordi alti. Fra 8 minuti scade garanzia giù di consegne entro 29 minuti. E quindi non solo non ricevo denaro per queste pizze. Ma perdo per sempre cliente che può da pizza ai hard. Senti, tu sei mia unica speranza, chiaro? Devi farcela in tempo. Peter, tu sei bravo, ragazzo. Ma non sei per niente affidabile. E è la tua ultima occasione. Devi fare 42 isolati in 7 minuti e mezzo. Se no qui hai chiuso. Muoviti! 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 Oh, ma sei matto? A quello gli ha rubato le pizze. Ehi ragazzini, non si gioca in mezzo alla strada. Sì, mister Spider-Man. Ci vediamo. Vai, mister Spider-Man! Care? Tanti Spider-Man. Pizza al volo. Sei in ritardo e non te le pago. Sì, non te le pago. Va. La prego, io devo lavorare. Vicenzia! Mi dia un'altra occasione.